Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Damiano Fedeli. Sulla 1 ci sono 4 km di coda per incidente fra Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione Roma. 4 km di coda anche fra Valdarno e Monte San Savino per ripristino dopo un incidente. Incidente anche fra Valdichiane e Arezzo in direzione Firenze, sempre in A1 con 1 km di coda. Ancora sulla A1 è chiuso per lavori fino al 31 agosto lo svincolo di Firenze in Pruneta, in entrata in direzione Bologna e in uscita provenendo da Roma. Chiuso le corsie di destra nel tratto Firenze in Pruneta-Scandicci. Sulla A12 coda per traffico intenso in uscita al casello di Rosignano. Sulla A11 rallentamenti fra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione Firenze, fra Alto Passo e Luca Este in direzione Pisa. Sulla Fipili 3 km di coda fra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno per lavori. Ed è tutto, buon viaggio. Ed è tutto, buon viaggio.